Mentre la Toscana si avvia verso una nuova settimana, quella che va dal 10 al 16 di maggio, in zona gialla, grazie a un indice R con T che si attesta a 0.88, domenica 16 maggio potrebbe essere il giorno del superamento del coprifuoco alle 22. A dirlo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha affrontato anche il delicato tema del rientro dei turisti in Italia, in vista dell'estate, tema questo strettamente connesso alla vaccinazione, che in Toscana sta affrontando la delicata fase di apertura a nuove fasce d'età. Sul portale regionale si è infatti aperta anche l'agenda per i nati nel 1957 e nel 1958, nell'ottica di un progressivo allargamento della platea delle persone da vaccinare, che rientrano nell'ampia fascia anagrafica degli over 60, dopo il recente avvio del nuovo filone vaccinale riservato ai 65-69 anni. Le vaccinazioni dei 63-64 anni partiranno lunedì 10 maggio e andranno avanti fino a domenica 16, negli hub prescelti sul portale online regionale. Il governatore difende la sua campagna vaccinale e accenna un'ipotesi di data anche per la programmazione delle somministrazioni e gli over 50 per il 13 di maggio. Il generale Figliolo, se voi guardate la roadmap del generale Figliolo, ieri ha detto, rimproverando e facendolo rimbalzare su tutti i siti nazionali, che questo deve avvenire solo nel momento in cui si è messo in copertura tutti gli altri. La Toscana, nella sua strategia vaccinale, ha voluto caratterizzarsi appunto nel coprire bene le tre categorie degli over 80, degli ultrafragili e dei 70-79 anni. Abbiamo iniziato ora con i 60-69 anni e io ritengo che ora ci concentreremo per poter diffondere anche in quest'età quello che è la somministrazione dei vaccini. Un sistema quello regionale che dopo aver evidenziato numerose falle è finito sotto accusa dallo stesso Partito Democratico che ha chiesto al Presidente di riferire in Commissione Sanità la prossima settimana. Nel Merino il click day e gli intoppi registrati sul portale. A livello di dati complessivi, voi andate sul sito della Presidenza del Consiglio, guardate le categorie che lì sono elencate. La Toscana è fra le regioni più virtuose in ciascuna delle cinque categorie. A conto a quelle che ho detto ci sono le RSA dove siamo al top perché abbiamo garantito il 100% e gli insegnanti dove siamo oltre l'80%.